Buongiorno a tutti, bentornati a Oragioni Avvocato. Oggi è un po' una puntata speciale e ci permettiamo anche, proprio per essere precisi, di dire esattamente il momento in cui registriamo per necessità questa puntata, perché il tempo in questo argomento di oggi conta molto. Siamo effettivamente nel martedì 12 di maggio del 2015. Ecco, per allacciarci alla puntata scorsa che è andata in onda, volevo rammentare, abbiamo parlato del Novara Calcio, delle sanzioni, sono state ridotte e abbiamo registrato, finalmente, e lo sapranno già tutti i nostri ascoltatori, ma anche dei complimenti per la trattazione dell'argomento che lei aveva fatto con l'aiuto del collega Barbero. Ma complimenti più che altro ai giocatori che sono riusciti, vincendo l'ultima partita, a finalmente rientrare, a ritornare in Serie B. Quindi, come vedete, vi parliamo proprio di attualità. Ma la data che ho detto prima è importante perché questa trasmissione rischiava di avere tutta un'altra faccia. Fortunatamente, un'ora e mezzo prima di entrare in trasmissione, mi sono accorto che la legge sul divorzio breve, questo è l'argomento, non l'avevo detto prima, la legge sul divorzio breve finalmente è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell'11 di maggio ed entrerà in vigore con il canonico, diciamo, l'asso di tempo dei 15 giorni, il 26 di maggio. Perché sono così contento? Perché in questi giorni, in queste settimane, i media hanno creato equivoci, anche tra noi avvocati. Nel senso che la notizia uscita era, il 22 di aprile, finalmente la Camera, dopo passaggio Camera Senato, torna alla Camera, approva definitivamente la legge sul divorzio breve. Tant'è che, immagino anche a lei, numerosi clienti chiedevano, applichiamo già il divorzio breve. Certo, e purtroppo qualcuno, ma un po' anche noi siamo rimasti tutti un po' flashati da questa cosa, perché ritenevamo, ecco, la legge è entrata in tempo. Ma poi non solo, bastava andare a vedere su Inter, bastava, adesso uso divorzio breve, il divorzio breve è legge, il divorzio express, quindi già subito. Poi addirittura, vabbè, qui c'è un errorino simpatico del sole 24 ore, quindi state attenti anche i siti. Sì, per cui era siti di un certo peso, cioè non... Sì, la legge sul divorzio breve è in gazzetta e va bene, però è la legge del 6 maggio 2015, numero 55, in vigore dal 26 maggio 2014. Ah, ecco, un altro. E poi, quindi a questo punto, la legge non è ancora entrata in vigore, è stata pubblicata ieri 11 maggio, entrerà, lo ripeto, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, il 26 maggio. Torniamo un attimo indietro. Perché tanta confusione? Beh, intanto perché questa cosa del divorzio breve era sulla punta della lingua di molti da un po'. Ma l'anno scorso, un ulteriore equivoco, qui se ne sono accorti in pochi, i media l'hanno lanciato, ahimè, perché hanno cominciato a parlare di divorzio breve, con questa locuzione che invece si riferiva alla legge uscita nel 2014, la 162 del 2014, che in realtà non aveva previsto una riduzione del tempo necessario dai tre anni ai 12 o ai sei mesi, poi lo vedremo, che deve decorrere dall'audienza di comparizione dei coniugi avanti del presidente, fino al momento in cui poi si chiede il ricorso per il divorzio. La legge dello scorso anno, chiamata impropriamente col termine di divorzio breve, aveva introdotto la negoziazione assistita, quindi la possibilità di divorziare davanti, anche con l'aiuto degli avvocati, e la possibilità di divorziare, qualcuno diceva, a prezzi stracciati, in comune davanti all'ufficiale di Stato civile. Anche se questa legge sostanzialmente prevedeva dei limiti, per esempio, velocemente, la negoziazione assistita, quindi con uno o più avvocati, per le consensuali di separazione personale o di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, poteva essere applicata, ma solo nel caso in cui, per esempio, nel caso in cui ci fossero figli minori incapaci o economicamente indipendenti, era sufficiente che il procuratore della Repubblica, esaminato l'accordo di negoziazione tra i due avvocati, concedesse il nulla osta. In presenza di figli minorenni incapaci, maggiorenni economicamente non indipendenti, l'accordo di negoziazione doveva essere trasmesso entro cinque giorni al procuratore della Repubblica, che avrebbe autorizzato l'accordo, oppure l'avrebbe trasmesso al Tribunale, cioè c'era tutta una procedura piuttosto particolare. Mentre, presso il sindaco, presso il comune, i coniugi non avrebbero potuto e non possono nemmeno adesso rivolgersi all'ufficiale di Stato civile in presenza di figli minori, in presenza di figli maggiori di età incapaci, in presenza di figli maggiori di età portatori di handicap, in presenza di figli maggiori di età economicamente non autosufficienti. Quindi una procedura volta a deflazionare il carico dei divorzi in Tribunale, ma con limiti e con discrete complicazioni interpretative. Invece, finalmente, il divorzio breve nel senso dei tempi è arrivato, nel senso che oggi come oggi, dal 26 maggio, avremo una possibilità di riduzione dei tempi. La nuova legge, che è stata pubblicata, lo ripeto, l'11 maggio in Gazzetta Ufficiale, la numero 65, prevede una consistente riduzione del tempo che deve passare tra la separazione e la richiesta per ottenere il divorzio, da tre anni a sei mesi, se si tratta di consensuale. Se invece non c'è l'accordo delle parti sui termini della separazione, i tempi diventano da tre a dodici mesi. I tre vanno sempre via. Sei mesi con l'accordo, dodici mesi senza l'accordo, cioè separazioni giudiziali, indipendentemente dalla presenza o meno di figli. Un po' complicato, mi rendo conto, perché comunque anch'io questa mattina nel riassume ho fatto un po' di fatica e anche adesso nell'esposizione un po' di fatica si sente. Ripeteremo eventualmente poi. Ecco, la separazione continua a decorrere da quando si compare davanti al presidente del tribunale e la norma anticipa, ecco, in questo caso, lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi al momento in cui il presidente autorizza i coniugi a vivere separati. Con la vecchia norma, invece, occorreva aspettare il passaggio ingiudicato della sentenza di separazione anche per lo scioglimento della comunione. Anticipo che comunque, ecco perché questo è solo un assaggio, ma tra qualche giorno ci sarà una trasmissione all'argomento della settimana condotta da Gigi Santoro proprio sulla entrata in vigore del divorzio breve, sulle sue conseguenze, sulla sua anche natura. Infatti ci sarà, penso, presente un teologo, insomma, che comunque parlerà di un argomento molto annoso il rapporto tra coloro che hanno contratto matrimonio concordatario e il divorzio in sede civilistica o meglio la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Mi fermo qui e rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti, magari anche nelle prossime puntate. Lascio la parola al collega Bastetti. Bene, dunque il mio argomento è un argomento, come dire, più semplice, più magari immediato. Volevo parlare, se vi è o non vi è, se abbiamo il diritto o non l'abbiamo, di chiamare la guardia medica e di, come dire, obbligarli, c'è questo obbligo alla visita domiciliare? Questa è la domanda. È un argomento che mi tocca abbastanza da vicino, perché recentemente ho avuto anche io necessità di avvalermi dell'uscita della guardia medica. Ecco, io ero tra l'altro convinto, essendo mai occupato di questo argomento, che se uno dovesse chiamare la guardia medica vi sia una sorta di obbligo. Di automatismo. Sì, l'uscita, la visita domiciliare, pensavo fosse automatismo. Invece mi ha sciolto ogni dubbio una sentenza di Cassazione, recentissima, del 10 marzo 2015, ma probabilmente ve ne sono anche precedenti, la numero 10.130, dove, dopo ampio dibattito, la Cassazione ha stabilito che non esiste, nel caso di specie, il reato, non sussiste il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Allora, innanzitutto, vediamo di cosa si tratta. Il reato è previsto dall'articolo 328 del Codice Penale. Al primo coma, questo articolo stabilisce che il pubblico ufficiale, l'incaricolato di pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio, e che per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo e punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Certo, quindi lì era quella che... Sanità, si pensa, urgenza. Invece, secondo la Corte, e questo leggo alcuni passaggi, il sanitario in servizio di guardia medica, stabilisce la Corte, non ha un obbligo specifico di effettuare le visite domiciliari nei confronti dei pazienti a semplici richieste di questi. E ciò anche se i sintomi depongano per una patologia non lieve. Nel caso di specie, quello trattato dalla Cassazione, si trattava di una polmonite lombare media, per cui non una cosa, almeno io non sono un medico, ma dal nome non mi sembra una cosa di poco conto. È invece sua discrezione stabilire quando il caso concreto richieda la sua presenza fisica e quando invece sia sufficiente prescrivere per telefono le medicine del caso. Questo lo stabilisce la Cassazione. Il reatto di rifiuto di atti di ufficio, entrando nel merito del reatto, previsto dal codice penale, presuppone sempre che il rifiuto riguardi un atto dovuto. Per cui ritiene la Cassazione che non è dovuto, non è l'uscita, non è un atto dovuto. Anche e soprattutto quando si è in presenza di campi caratterizzati da ampi margini di valutazione discrezionale, soprattutto di tipo tecnico, come quella del medico. Ebbene, nel caso della guardia medica, quest'ultima alla guardia medica compete una valutazione discrezionale in ordine alla fattibilità, all'opportunità o alla eseguibilità dell'intervento richiesto. Dunque non si è in presenza, conclude la Cassazione, di un atto dovuto. Al massimo, prevede sempre nella sentenza, dice la Cassazione, ma solo in caso di erronea diagnosi avvenuta per telefono, potrà scattare il reatto più grave dell'omicidio, in caso di morte, incidio colposo ovviamente, in caso di morte del paziente, o delle lesioni personali colpose. Per cui errata diagnosi telefonica, possono scattare eventualmente questi due reatti. È una bella responsabilità da parte del medico che si rifiuti di uscire. Sì, in realtà sta al paziente descrivere una fattispecie patologica che decide di non uscire in presenza di una determinata patologia raccontata dal paziente, però non essendoci. Per cui potrebbero scattare quei due tipi di reatti lì, omicidio, abbiamo detto, in caso di morte, per errato, omicidio colposo, certo, lesioni personali compose, però il reato che io credevo rifiuto di atti d'ufficio, credevo sussistenza, invece l'ha chiarito e ha troncato ogni questione, la Cassazione, non sussiste, non c'è per concludere un dovere della guardia medica di uscire del medico di guardia, non è obbligato a uscire. Va bene, grazie all'avvocato Bastetti, alla prossima puntata e buona giornata a tutti. Arrivederci. Arrivederci.